È un finale brutto, però meno male che è finito. Adesso pensiamo di tornare bene e fare una stagione totalmente diversa che abbiamo fatto quest'anno. Quando eravamo tutti insieme, eravamo una squadra, eravamo meno uno della Juve. Abbiamo visto giocatori importanti, Milito, Bauta Samuel, Dechi. È una persona davvero, giocatori importanti per noi, ma mi dispiace per il troppo andare così, ma speriamo che il prossimo anno facciamo bene.